Sono servite sette ore di intenso dibattito in Consiglio Comunale per arrivare all'approvazione della pratica che porta alla nascita della Fondazione Arezzo Comunità. Sostanzialmente il nuovo strumento a cui il Comune di Arezzo affiderà servizi sociali e scolastici. Noi abbiamo fatto una cosa molto innovativa, noi abbiamo messo insieme i cinque grandi colossi che in questa città da secoli si occupano dei servizi alla persona da zero a mille anni e quindi Fraternità dei Laici e quindi Tevenin e quindi Casapia e quindi Fondazione Areotti e quindi il Comune a dimostrazione che chi accusa di privatismo di fatto dice una cosa che non è, cioè questo è il pubblico e il municipale per eccellenza che si unisce, che apre le porte dello strumento a tutti coloro i quali vogliono aderire, quindi ai soci, dal più piccolo al più grande, dal volontariato puro al terzo settore preaprendo anche una grande sfida al mondo del privato che può defiscalizzare le risorse che investe e quindi fare bene facendosi bene nel senso che cresce come pille sociale e noi lanciamo una sfida che parla di futuro. Le categorie vecchie sono superate, questa è la terza via politica che la Giunta Ghinelli disegna, non più il solo pubblico, non più il solo privato ma il privato e il pubblico messi insieme con l'occhio della municipalità. Forti le critiche da parte della minoranza. Per esempio non ha chiarito quali servizi passeranno alle fondazioni, non ha per esempio definito e chiarito dentro la fondazione chi erogherà i servizi, come faranno i cittadini, a chi dovranno rivolgersi, quali saranno le tariffe, quali saranno e chi deciderà i criteri per l'accesso ai servizi. Sta di fatto poi che con le fondazioni, lo dico in modo molto chiaro, l'assessore alle politiche sociali e ai servizi educativi dovrebbe sapere che quando si parla di sociale e si parla di servizi sociali si parla anche di integrazione sociosanitaria perché la salute e in qualche modo il benessere e i servizi, sto pensando agli anziani, necessitano di una azione comune, sinergica tra l'ASL e il comune. Benissimo, in tutti gli atti non si parla, l'ASL non è mai indicata e quindi si rompe anche in questo percorso quella cosa fondamentale che è l'integrazione sociosanitaria vale a dire che una persona che ha bisogno deve avere una stessa risposta coordinata e non avere risposte diverse e fare la trottola tra un ente o l'altro. E anche sul destino del 5x1000 di coloro che fanno parte della fondazione c'è una divergenza importante tra amministrazione e minoranza. Il 5x1000 o si destina a un bacino d'utenza o si destina direttamente ad un ente, a un'associazione al quale si vuole destinare questo 5x1000. Ovviamente l'assessore Tanti qualche giorno fa aveva dichiarato che queste entrate che avrebbe ricevuto la fondazione non avrebbero inciso negativamente sull'entrata del 5x1000 degli vari enti e delle associazioni del territorio. Ma questo non è vero, non è assolutamente vero, non si raddoppiano le entrate semmai la fondazione toglie un'entrata che potrebbe andare direttamente nelle casse, nelle risorse delle associazioni del nostro territorio. Questa è una scelta di governo della città, quindi se si vuole governare insieme bisogna condividere i programmi, per cui la minoranza si oppone, controllerà che il governo è fatto da chi le scelte le fa. Quindi bastava un voto favorevole di tutti per poter essere tutti insieme nella fondazione. Venendo invece a un'argomentazione un po' più seria rispetto a questa, che la trovo veramente un po' così stravagante, non è una debolezza, è una forza quella del 5x1000, perché qualsiasi associazione potrà prendere il proprio 5x1000, come ha sempre fatto, e i soci potranno mettere a sistema il 5x1000 che la fondazione prenderà in autonomia. Quindi non lascia, ma raddoppia.